Buongiorno, molte attività chiudono in Italia, sono chiuse per causa del decreto del coronavirus, però rimangono aperte molte attività di pubblica utilità, una su tutte per esempio quella del giornalaio, questo è il giornalaio vicino allo Zampilo di Sanremo. Buongiorno, vi dico che sì, è giusto che alcune attività di pubblica utilità debbano rimanere aperte, perché comunque il mondo non si ferma ed è giusto che va avanti così, però forse alcune attività che sono rimaste aperte potevano anche chiudere, perché alla fine hanno chiuso quello che per metà erano già chiuse o che stavano chiudendo, e quindi tanti esercizi che magari potevano continuare a chiudere sono rimasti aperti. Alla fine penso che da oggi a ieri non è cambiato molto, comunque in giro c'è gente che va e fa quello che deve fare. Stazione RT Riviera Trasporti Centrale di Sanremo, siamo insieme a un controllore autista, un responsabile dell'RT, come si sta evolvendo la situazione in questi giorni? C'è un calo dei passeggeri, voi avete adottato misure straordinarie, ci spieghi un po'. Il servizio è regolare, c'è un calo dei passeggeri, logicamente come si può vedere, aspettiamo nuove direttive, ci sono le prime file degli autobus bloccate, non possono accedere i passeggeri, accedono solo dalla porta posteriore, è stata incrementata ancora di più la pulizia, la disinfezione dei mezzi nei nostri depositi e nei locali. Il messaggio che vorrei dare è non intanto chiudiamo tutte le attività, chiudiamo tutto quello che è un assembramento, attività chiusa ma il self-service aperto con 20 persone dentro che chiacchierano, è esattamente come tenere il bar aperto. Il bar non è una necessità primaria, il problema è che il proprietario del bar come fa a vivere? Allora bisogna stare attenti secondo me a chiudere tutto e non sono contro quello che ha deciso lo Stato, si fa quello che si deve fare ma fortunatamente noi facciamo parte della categoria che possiamo rimanere aperti ma usciti di qui a casa non si va fuori a chiacchierare con i clienti, rimango qui dentro, disinfettiamoci, laviamoci le mani, facciamo quello che possiamo per rispettare queste regole. Ecco abbiamo appena sentito Carlo del negozio di telefonia, di telefoni e lui ci ha gentilmente offerto un po' di ammucchina spray o quello che sia, noi ce l'abbiamo, lo facciamo sempre ma questa mi sembra più bella. Nel giorno della serrata totale, tra virgolette perché poi totale non è, siamo in una rivendita di informatica assistenza con Claudio il titolare, ecco cosa sta succedendo per la tua categoria, diciamo per la tua rivendita in questi giorni? Diciamo che in questi giorni essenzialmente noi lavoriamo abbastanza proprio per dare un servizio alla gente, scuole, altri negozi ma soprattutto uffici hanno la possibilità, hanno il dovere ormai praticamente, di lavorare da casa, quindi cerchiamo di fare il possibile per andare da queste persone e farle, metterle in condizioni di lavorare da remoto per evitare di andare in giro essenzialmente.